Corotondo qui dopo la partita 2 a 1 per il Valencia, sconfitta per il Siviglia, però passaggio del turno e finale imminente. Sì, siamo felicissimi, contentissimi, sei un gruppo fantastico. Quando abbiamo creato questa squadra me l'avevano detto, ti porteremo un finale e hanno promesso e ci siamo arrivati. Sono felice. Di sicuro una grossa mano è arrivata proprio dal numero 9 della squadra che ha fatto una partita di sacrificio, anche di belle azioni. Diciamo che il contributo è arrivato da tutti i componenti, si è sentito lo spirito di squadra ma si è sentita anche l'apporto delle singole componenti a partire da lei. Come ripeto, siamo un gruppo fantastico. Poi il numero 9, cioè io, ultimamente la porta non la vedo, non riesco più, portieri miracolosi. Pazienza, l'importante è che siamo arrivati in finale, pochi segna segna. Forza Siviglia, forza ragazzi. Bene, grazie. Arrivederci a tutti. Grazie. Grazie.